Creare un logo capace di rappresentare una città significa ridefinire l'identità di quel luogo, valorizzare la sua storia, trasmettere con semplicità e immediatezza tutto ciò che rappresenta, per i suoi cittadini, per le istituzioni, per le imprese, per i turisti. Gallarate ci prova e grazie all'impegno e alla professionalità della nota agenzia creativa MMG, operativa in città da 30 anni, presenta il suo logo. Per scrivere Gallarate è stato scelto un carattere semplice, pulito e capace di rimanere impresso nella memoria. La lettera G racchiude al suo interno il profilo di una ciminiera per rendere omaggio ad un passato lontano, quando la città dei Due Galli veniva definita delle cento ciminiere. Un logo che può cambiare nel colore e nella dimensione e che ha l'ambizione di conquistare gli occhi che lo guardano. Questo city brand che è stato elaborato e ci è stato presentato e ci ha colpito perché partendo dalla storia, quindi dalle radici della nostra città, nasce e si sviluppa questo nuovo logo che va ad identificare e che deve servire anche ad unificare tutti i vari settori sotto una nuova identità che può essere comunicativa. È un carattere molto semplice, molto lineare, ma è molto d'impatto e a volte le cose semplici sono poi quelle più belle, più durature e che rimangono nel tempo. Infatti Munari è colui che ribadisce che le cose più semplici sono a volte le più difficili da realizzare. Il lavoro è stato una sfida, però l'abbiamo abbracciata proprio con grande passione perché crediamo nel territorio, una città che ha sicuramente un potenziale grossissimo e quindi ci è piaciuto molto questo progetto.